Iopra ODV è un'associazione nata a Pesaro nel 1987. Si occupa gratuitamente dell'assistenza domiciliare ai malati oncologici e cure palliative sul territorio dell'Asta di Pesaro e Urbino, di cui la presidente è Luigia Evangelisti Corsini. Il nostro prezioso staff sanitario di lunga esperienza è composto da medici palliativisti, infermieri, psicologa, fisioterapista, estetista oncologica. Il direttore sanitario è la dottoressa Uguccioni Stefania, anestesista specializzata nella terapia del dolore e cure palliative. Operano tutti i giorni 24 ore su 24, con cuore e professionalità. Supporta anche tu la nostra associazione con donazioni 5x1000, lasciati o associandoti. Riscopri il piacere di fare del bene. Aiutaci e sostienici con il tuo aiuto 5x1000 dalla tua dichiarazione IRPEF, utilizzando il codice 920 22 66 04 16.